Brindisi ha lavoro sulle priorità per mettere insieme i primi tasselli di qualità che possono costituire l'ossatura del Brindisi della prossima stagione. Tanti i nomi e tanti i contatti in questi giorni avvenuti tra il direttore sportivo Minguzzi e il tecnico Danucci con calciatori che possano fare al caso della formazione adriatica. L'ultimo nome in ordine di tempo è quello di Nicola Strambelli che con ogni probabilità non continuerà la sua vintura a Cerignola. Sulle sue tracce però ci sarebbero oltre al Brindisi anche Casarano e Casertana. Un incontro però con la dirigenza brindisina sarebbe già avvenuto mentre nelle prossime ore dovrebbe esserci un confronto con l'entourage del calciatore e i dirigenti del Casarano mentre domani potrebbe esserci invece l'incontro con la dirigenza della Casertana. Sullo sfondo ci sarebbe anche un interessamento della Cavese. Alla società brindisina pare e piaccia però anche Franco D'Adalt. Alla destra cassa 1987 nell'ultima stagione in forza alla Mezzia Terme. Tanti i nomi che segnano il passo per questa fase di contatto in attesa dell'apertura del calciomercato che avverrà ufficialmente il primo di luglio. Intanto il segretario generale della formazione brindisina Jacopo Sticchi in una nota ha annunciato il suo disimpegno con la prima squadra che continuerà invece nel settore giovanile, ruolo già ricoperto per due anni prima di essere impegnato nelle ultime due stagioni anche nella prima squadra, in particolare nella stagione del ripescaggio della formazione brindisina in Serie D. Al suo posto potrebbe arrivare Antonio Obiettivo, ex dirigente di Fasano e Casarano. Grazie a tutti.